La testimonianza del risorto è l'unico programma e piano pastorale del neo arcivescovo di Genova. Lo ha annunciato lo stesso padre Marco Tasca ieri all'insediamento nella cattedrale di San Lorenzo a Genova. Per portare buoni frutti dobbiamo accogliere la parola del Signore e diventare terreno fertile. Lo ha sottolineato il Papa che nell'Angelus si è detto addolorato per Santa Sofia trasformata in moschea a Istanbul. Entro l'autunno l'entrata in funzione del nuovo depuratore di Rapallo. In questi giorni le prove sul sistema di filtraggio mentre si attende la data utile per collegare la vecchia condotta con le nuove. Nuova luce per l'abbazia di Borzone. L'8 agosto festa per l'impianto di illuminazione esterna. Intanto il monastero di Sant'Andrea si riscopre il luogo di pellegrinaggio in questa estate post lockdown. 19 chilometri di percorso da Terra Rosso a Colombo a Genova V è il tragitto dell'antico sentiero colombiano recentemente restituito agli escursionisti, ripulito e dotato di nuova segnaletica. Buongiorno ai telespettatori di Tiguglia Oggi. Per l'Arcidiocesi di Genova sono state giornate intense ed emozionanti. Sabato la consacrazione del nuovo arcivescovo, padre Marco Tasca, durante la cerimonia in piazza della Vittoria. Ieri pomeriggio poi l'insediamento in cattedrale a San Lorenzo con un rituale comune a tutti i predecessori sulla cattedra di San Siro, pur nelle ristrettezze imposte dalle norme anticontagio. Vediamo. La testimonianza è il concetto fondamentale che padre Marco Tasca intende compiere nel suo ministero episcopale. Lo ha ribadito ieri pomeriggio durante la cerimonia di insediamento nella cattedrale di San Lorenzo a Genova. Al neo arcivescovo, per prima cosa, si offre al bacio la reliquia della croce conservata nel prezioso reliquiario detto Croce di Zaccaria, poi posto sull'altare. Padre Marco ha quindi sostato in preghiera all'altare di San Giovanni Battista, dove sono custodite le reliquie del santo precursore. Il rituale è stato richiamato dal preside del capitolo metropolitano della cattedrale, Monsignor Paolo Rigon, che nel discorso di benvenuto ha evidenziato alcune caratteristiche dei genovesi. Un poco chiusi, un poco diffidenti, certamente brontoloni. Il mugugno fa parte del nostro DNA, ma alla fine siamo dei bravi ragazzi. In genovese, li brai figio. In un clima affettuoso e cordiale, padre Marco Tasca ha pronunciato il suo primo discorso alla cattedra di San Silo. Il compito precipuo del vescovo, in quanto successore degli apostoli, è quello di essere testimone del risorto per e nella comunità a lui affidata. Padre Marco ha quindi fatto riferimento a due santi cari ai genovesi, San Giovanni Battista e San Lorenzo. Tutti, ciascuno secondo i carismi e le responsabilità ricevute, ha spiegato l'arcivescovo Tasca, siamo chiamati ad essere testimoni della resurrezione di Gesù. Questo, carissimi fratelli e sorelle, è mio unico programma e piano pastorale. Condurvi a Gesù risorto, cercando di fare della nostra chiesa di Genova un'epifania del volto del Padre misericordioso per gli uomini del nostro tempo. Il Papa adesso, per portare buoni frutti per noi e per i nostri fratelli, dobbiamo accogliere la parola del Signore e diventare terreno fertile. Lo ha sottolineato Francesco, che nell'angelo suddomenicale ha spiegato la parabola del seminatore. Ognuno di noi è un terreno su cui cade il seme della parola, nessuno è escluso, ha detto. Sentiamo. La parola di Dio, simboleggiata dai semi, non è una parola astratta, ma è Cristo stesso, il verbo del Padre, che si è incarnato nel grembo di Maria. Pertanto, accogliere la parola di Dio vuol dire accogliere la persona di Cristo. Arriva da Papa Francesco l'invito a ciascun cristiano ad essere il terreno buono nel quale far crescere i frutti buoni per noi e per i nostri fratelli. Commentando la parabola del seminatore, il Papa ha passato in assegna tutti i tipi di terreno descritti dall'Evangelista. Dalla strada dove il seme viene mangiato dagli uccelli e le distrazioni del mondo, fino al terreno buono dove questo riesce a germogliare e a dare frutto. Passando per il terreno sassoso, dove a prevalere sulla fede sono le prime difficoltà, e a quello dove crescono i rovi. Le spine, ha spiegato il Papa, sono l'inganno della ricchezza, del successo, delle preoccupazioni mondane. Sta a noi, ha proseguito il Papa, scegliere a che terreno essere. Io, che tipo di terreno sono? Assomiglio alla strada, alla terra sassossa, al rovetto. Se vogliamo, con la grazia di Dio, possiamo diventare terreno buono. Dissodato e coltivato con cura, per far maturare il seme della parola. Esso è già presente nel nostro cuore, ma il farlo fruttificare dipende di noi. Dipende dell'accoglienza che riserviamo a questo seme. Dopo la recita dell'Angelus, prendendo spunto dalla ricorrenza della Domenica del Mare, il Papa ha rivolto il suo pensiero a Istanbul, in Turchia, dove di recente la Basilica Bizantina di Santa Sofia è tornata ad essere moschea. Il mare mi porta un po' lontano, il pensiero a Istanbul. Penso a Santa Sofia, sono molto adolorato. Genova e la Liguria non hanno più tempo da perdere. Con questo slogan, la FITCIS di Liguria organizza il presidio, che avrà luogo giovedì 16 luglio, a partire dalle 10, sotto la prefettura di Genova, con delegati provenienti da tutta la regione. Al centro dell'iniziativa, la situazione della viabilità autostradale e ordinaria non più sostenibile. I lavoratori e la nostra stessa economia, sia di Genova che dell'intera regione, hanno bisogno di risposte e azioni concrete per risolvere la drammatica situazione che si sta vivendo, spiega Mauro Scognamiglio, segretario generale della FITCIS Liguria. Vogliamo salvaguardare le migliaia di aziende e di posti di lavoro minacciate dalle pesanti ripercussioni del blocco del traffico, preservare i traffici commerciali che abbiamo difeso con i denti dopo la tragedia del Ponte Morandi e non ultimo, stimolare chi arriva da fuori a venire nel nostro territorio. Notizia questa che abbiamo trovato anche sul nostro sito, teleradiopace.com. E per la politica amministrativa sono in dirittura d'arrivo a Rapallo le operazioni necessarie per la messa in funzione del nuovo depuratore. Mentre nella struttura, nella zona di Ronco, si stanno ultimando le prove del sistema di filtraggio, alla foce del torrente San Francesco si attende il momento giusto per effettuare il collegamento tra le vecchie condutture e le nuove posate sotto la passeggiata a mare. Se non ci saranno intoppi, il nuovo depuratore potrebbe essere attivato entro l'autunno. Sentiamo. Verrà completato in una delle prossime notti, quando le condizioni del mare saranno tali che permetteranno di operare in completa sicurezza, l'intervento di collegamento tra la vecchia tubatura che porta a largo le acque reflue in uscita dall'impianto di pretratamento di diabetti e le condotte sotterranee a servizio del nuovo depuratore di Rapallo in via di ultimazione nella zona di Ronco. Al momento il cantiere, allestito da Irene Italscavi nella zona antistante del castello sul mare, alla foce del torrente San Francesco, resta aperto in vista dell'ultima operazione che ne consentirà la chiusura. Il punto è stato fatto nei giorni scorsi dal sindaco Bagnasco e dall'assessore Lasinio. Operazione non semplice, caratterizzata da una serie di attività preparatorie, a cui la mareggiata di giugno ha aggiunto ulteriori complicazioni. A tre metri sotto il livello del mare è stata intercettata la vecchia tubazione di cui non si conosceva il diametro. Una volta individuata e misurata, si è proceduto alla creazione su misura del giunto di collegamento tra questa e le condotte nuove. Adesso si tratta semplicemente, ovviamente il termine è fra virgolette, di collegare le due tubazioni e il gioco è fatto. La scelta di compiere questa operazione di notte è dovuta al fatto che la condotta dell'impianto di viabetti resta comunque in pressione e solo durante le ore notturne si può sospendere più facilmente il lavoro dell'impianto di prefiltraggio. Una volta conclusi i lavori, tutta la zona alla foce del torrente San Francesco potrà essere risistemata. Il comune ha chiesto a dire di farlo velocemente. Abbiamo chiesto di inserire anche i doppi turni per accelerare i cantieri, una pulizia profonda della barra fociva, quindi della vasca del fiume Boate alla fine dei lavori, che nonostante che l'abbiamo già appena fatta noi, ma potrebbero i lavori in corso portare eventuali residui ulteriori. Con il collegamento tra la vecchia e la nuova condotta si potranno così portare i liquami verso le vasche del nuovo depuratore, nel quale proprio in questi giorni si sta testando il sistema di trattamento e filtraggio che risulta essere già pronto ad entrare in funzione. Il depuratore struttura devo dire che è andato avanti anche in periodo di Covid, salvo pochissimi giorni. Ora stanno installando in questi giorni le strutture lamellari all'interno delle vasche per poi cominciare con le prime prove fisiche di liquami. L'involucro rimane ancora indietro, ma che tempi ci sono su questo? Io direi che nell'involucro, nella sua fine, un anno potrebbe essere un buon periodo. L'importante però è che parta la depurazione, che quindi quello sta ripartendo, riandando avanti abbastanza velocemente, quindi quello è il nostro primo obiettivo. La cronaca, ennesimo incidente stradale all'incrocio tra Corso Millo e Viale Tappani a Chiaveri, il mancato rispetto di uno stop da parte di una vettura che procedeva in Viale Tappani, in direzione Levanti, ha causato il sinistro in cui è rimasta coinvolta anche un'altra autovettura che transitava in Corso Millo. L'impatto è stato molto forte, fortunatamente senza gravi conseguenze, né per i conducenti né per i pedoni che si trovavano a transitare lungo il marciapiede. L'auto fu riuscita dallo stop avrebbe colpito la parte retrostante dell'altro automezzo, facendolo ruotare di 90 gradi e finire la corsa contro una delle piante ornamentali che si trovano lungo il viale. A bordo viaggiava un uomo di 36 anni, soccorso e trasportato in ambulanza all'ospedale di Lavagna, ma senza ferite di particolari rilievi. Sul posto la Polizia Municipale di Chiaveri e il carro a Trezzi per la rimozione del mezzo. Sono oltre 17 mila i voucher settimanali già erogati da Regione Liguria per i centri estivi Liguri, per un valore di oltre 2,2 milioni di euro. La prima finestra del bando, finanziata con 6 milioni di euro dal Fondo Sociale, si è chiusa il 30 giugno con oltre 330 domande arrivate dai centri e vede già pubblicata la gradatoria sul sito della Filse. Alla scadenza della prima domanda sono arrivate altre 169 domande relative all'asse 0,5 anni, pari a oltre 1,3 milioni di contributi, e 162 domande dell'asse 6-17 anni, pari a quasi 850 mila euro. C'è ancora spazio per nuove domande e il bando rimarrà aperto fino al 15 di luglio. La famiglia delega il centro estivo a presentare la richiesta di voucher e il centro inoltre ha filse un'unica domanda per tutte le richieste pervenute alla propria struttura. Il turismo adesso, l'entroterra si conferma luogo privilegiato in cui trascorrere un periodo di relax e vacanza in questa estate particolare tra norme anti-assembramento e distanziamento fisico. Tra questi luoghi è stata riscoperta e particolarmente apprezzata l'abbazia di Borzone, a Borzonasca, dove padre Attilio Fabris accoglie i pellegrini in viaggio o chi vuole semplicemente trascorrere un momento di pace con la famiglia. L'8 agosto poi ci sarà un momento particolare con l'accensione della nuova illuminazione artistica che valorizzerà l'intero complesso monumentale. Sentiamo. Non c'è pagina in cui non ritorna il termine pace. Sia qui un angolo di pace, qui ho risperato un clima di pace e così via. Beh, se già Borzone serve per fargli aiutare a riscoprire una pace interiore penso che già questo sia oggi un servizio quanto mai importante. C'è anche l'abbazia di Sant'Andrea di Borzone tra i luoghi dell'entroterra riscoperti da famiglie ed escursionisti in questa estate post-lockdown. Qui distanziamento fisico e natura incontaminata fanno il paio con il silenzio e la possibilità di gettare uno sguardo non solo al di fuori ma anche dentro di sé per ritrovare pace e serenità. E' quello che scrivono le persone sul registro che padre Attilio lascia aperto dentro la chiesa millenaria. Qui arrivano pellegrini d'Altiguglio ma non solo, come il caso di Luigi che da nove anni perdendo la compagna di una vita e lasciando tutti i suoi beni ai salesiani ha deciso di mettersi in cammino pellegrino per le strade del mondo. Lasciai tutto e mi misi pellegrino e sto bene. Ho incontrato la pace pellegrinando. Per cui auguro a tutti che vanno a fare una pellegrinazione perché la pellegrinazione fa bene sia al corpo, sia all'esperimento e all'anima. L'Abbazia nelle prossime settimane avrà un nuovo vestito di luce. Sta per essere ultimato il nuovo impianto di luci scenografiche che il comune di Borzonasca ha potuto installare grazie alla partecipazione e all'assegnazione di un bandio di finanziamento. Nella serata dell'8 agosto è in programma una festa per l'accensione. Ci sarà Petruzzelli del Teatro Nazionale di Genova che leggerà alcuni brani di autori della nostra zona. Ci sarà anche alcuni brani di musica, il primo violino del Carlo Felice. Sarà presentato anche da una copia di amici un libro sulla storia di Borzone e poi probabilmente ci sarà anche lo stand ormai della birra dell'Abbazia insieme anche magari qualche altro con i prodotti locali che verranno offerti ai partecipanti. Le 36 nuovi sentieri della provincia di Genova sono stati inseriti nella carta inventario regionale e vanno ad arricchire la rete Ligure che supera così 4.500 chilometri totali per oltre 380 tracciati. Questi percorsi sono stati assegnati ad alcune associazioni che partecipano alla campagna Adotta un sentiero e si occuperanno del mantenimento e della cura di questi tratti. E un percorso escursionistico di particolare interesse è quello che collega la Fontana Buona con Genova V. Si tratta dell'antico sentiero colombiano recentemente ripristinato un'opportunità per passare dal verde dei boschi all'azzurro del mare lungo un tragitto di valenza storica. 19 chilometri dalla Val Fontana Buona al mare tra natura e storia sono quelli del percorso che si snoda da Terra Rossa a Moconesi per arrivare sino a Genova V passando dalle fasce alle spalle di Nervi. Una mulatiera a valenza storico-escursionistica inaugurata nel 1992 durante i festeggiamenti dei 500 anni dalla scoperta dell'America e successivamente lasciata in stato di abbandono. Grazie all'impegno di Roberto Giordano, ambasciatore di Genova nel mondo, runner e conoscitore dell'entroterra, all'Associazione Liguri nel mondo e alla Federazione Italiana Escursionismo si è provveduto al ripristino dell'itinerario con la pulizia del sentiero, il taglio dei rovi, la sostituzione della segnaletica ormai usurata e in parte illeggibile. Nell'anno del Covid-19 e della riscoperta di passeggiate e mete di prossimità il percorso storico colombiano si rivela come un'ottima opportunità per valorizzare e far conoscere l'entroterra. Veramente una grande soddisfazione ritrovarmi qui in Piazza Rusca a Quinto dove nel 1992 avevamo fatto una cerimonia forse analoga mettendo un panello dove era rappresentato il sentiero colombiano a quei tempi per poter individuare il tracciato. Prima ci siamo basati sulle mappe catastrali, su antiche carte. Poi per avere la conferma abbiamo intervistato degli anziani chiedendo dove passavano per andare a Genova durante la guerra quando mancavano i servizi pubblici e ci hanno spiegato dove passavano e abbiamo visto che l'itinerario individuato era esattamente quello. Come Comune stiamo lavorando per la valorizzazione delle nostre vallate di un'entroterra fatto dei nostri sentieri che come nel caso di oggi sono soprattutto ricchi di storia genovese che vuole essere conosciuta e anche riconosciuta sia dai visitatori che dai città antigenovesi. Questi sentieri sono oggi più che mai un modo per vivere l'aria aperta e per far sì che nel post-covid si possa in qualche modo sentirsi liberi di girare nelle nostre città. E sul piazzale della chiesa di San Lorenzo a Calvari è stato presentato il diario Gagliardo un testo di fine Ottocento trascritto e commentato da Claudia Vaccarezza. L'autore Andrea Gagliardo era emigrato in America a 13 anni e fu uno dei partecipanti alla cosiddetta Corsa all'Oro. A scoprire questo testo è stato Renato Lagomarsino che insieme all'autrice e cultore di storia locale Giorgio Gettoviarengo ha ripercorso alcuni tratti della storia di questo fontanino. L'avventura di Andrea Gagliardo inizia nel 1847 nelle vie di Boston a suonare l'organetto ed è intessuta di avvenimenti in parte comuni e tanti altri emigrati e in parte straordinari come fu la partecipazione alla Corsa all'Oro lungo il fiume Frasen nella Columbia Britannica. Il diario originale è custodito nella biblioteca dell'ascito Cuneo. E come da ultime volontà del maestro ceramista e scultore Edoardo Ceccardi scomparso recentemente tutte le opere presenti nella sua bottega artigiana gli stampi, le ceramiche e i due forni elettrici per la cottura della Creta sono stati donati al comune di Santa Margherita Ligure. Questa mattina la consegna alla presenza del figlio del maestro Alfio Ceccardi e dell'assessore Beatrice Tassara. Ceccardi è operato nella cittadina del Tiguglio occidentale dal 1962 ininterrottamente sino alla sua scomparsa avvenuta alla fine febbraio di quest'anno. I forni in particolare verranno posizionati nel complesso dell'istituto comprensivo andando a completare la possibilità di offerta laboratoriale della stessa scuola. Linea adesso alla rassegna stampa vediamo insieme i titoli dei giornali dell'edicola quest'oggi ci rivediamo dopo per altri aggiornamenti. Il secolo XIX titola casa autostrade la svolta di Conte fuori Benettoni il premier basta sacrificare il bene pubblico per i loro interessi privati ma il gruppo è pessimista, l'offerta è seria ma la partita è solo politica il governo vuole affidare alla società dei casse, dipositi e prestiti e i ricorsi giudiziari però sarebbero dietro l'angolo. Il calendario dei lavori sulle autostrade i cantieri, tre giorni caldi, disagia anche imperia oltre al nodo genovese. L'analisi invece di Carlo Cottarelli per i fondi europei in arrivo programmi convincenti per i fondi dell'Unione Stato di emergenza Covid spunta l'ipotesi 31 ottobre domani saranno prorogate le misure anticontagio stiamo attenti a non sbagliare la ripartenza è il commento di Pietro Garibaldi la leader di Forza, anzi di Fratelli d'Italia oggi sarà a Genova Meloni, Nenciuccio, governissimi con i 5 stelle Berlusconi è con noi e poi si parla dello sport di due grandi e importanti vittorie per le genovesi in Serie A Sampa, segno il tridente Bonazzola in rovesciata manda in tilte l'Udinese e finisce 1-3 per la Sampdoria e poi l'esultanza dei genuani Genua, due lampi geniali Pan de Veschon affondano la Samp 2-0 ma c'è anche il disastro Ferrari Leclerc e Centrafettel alla terza curva autoscontro tra due rosse al Gran Premio di Stiria e poi ancora sulla prima pagina del secolo Liguria, SOS dall'entroterra servono farmaci, medici e web e il battaglione in strada per la Muvida sicura nelle pagine del Levante vediamo insieme Muvida, Sesti Levante e Carabinieri del battaglione Liguria Roggero invece presidente dell'ASCOM richiama gli esercenti di Chiavari dopo le sanzioni rispettate le regole anticovide non vendete alcolici ai minorenni controlli a tappeto appunto a Sesti Levante ma non solo una persona trovata con cocaina vandalismi, denunci per furto bilanci in Riviera notte movimentata ma senza gravi episodi e ancora sulla pagina del Levante viabilità in Riviera incubo senza fine in A12 ancora code e caselli chiusi dopo Sestri ora tocca a Chiavari dove rimane il semaforo Aurelia la criticità e il cantiere delle gallerie di Sant'Anna gli altri problemi poi sul territorio e parliamo ancora di calcio con la Serie B che ritorna in campo questa sera Lentella cerca la vittoria contro il Pisa servono punti per restare in Serie B strigliata del Presidente Gozzi e bocche cucite in casa chiavarese alla vigilia di un match che si rivela chiave solo 5 gare alla fine del campionato ma la salvezza non è ancora garantita Per gli ultimi aggiornamenti adesso andiamo in redazione dove troviamo Cristina Uneta Grazie Andrea un saluto a tutti i telespettatori mentre vi stiamo parlando c'è un intervento dei vigili del fuoco di Chiavari un intervento in via Mario Puppo a Lavagna per un principio di incendio all'interno di un appartamento al momento la situazione è sotto controllo all'origine del rogo potrebbe esserci il malfunzionamento della caldaia l'appartamento è disabitato e non è stato necessario far evacuare gli inquilini dei piani degli altri appartamenti appunto invece per quanto riguarda l'attività dei carabinieri nella prevenzione delle stragi del sabato sera il ritiro della patente e la denuncia per guida in stato di ebrezza è stato il provvedimento assunto nei confronti di tre automobilisti fermati dai carabinieri durante il fine settimana a Santa Margherita Ligure i tre due uomini e una donna sono risultati positivi all'alcol test con valori di alcol compresi tra 1,1 1,42 grammi per litro è tutto linea allo studio grazie ed è tutto anche per questa edizione di Teguli oggi l'informazione torna questa sera 19.15 continua però sul nostro sito teleradiopace.com e il canale 187 telepace news grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata grazie per la visione